Ben ritrovati a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale YouTube Comunicazione, comunicato ufficiale, rilasciato dal Milan, lo leggiamo insieme, notizia riguardante Mike Magnan Mike Magnan che è stato operato e che sarà fermo almeno 10 settimane, leggiamo il comunicato AC Milan comunica che nella giornata odierna Mike Magnan si è sottoposto a un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata E' stato inoltre posizionato una vita vercutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare L'intervento eseguito dalla clinica Malamadonina dal dottor Loris Pegoli alla presenza del responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni è perfettamente riuscito, seguirà un'immobilizzazione di 6 settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo Il rientro di Magnan in campo è previsto tra 10 settimane Quindi Mike Magnan che è stato operato, operazione che è andata molto bene, perfettamente riuscita In 10 settimane, quindi in 2 mesi circa, il giocatore tornerà a disposizione di Stefano Pioli e tornerà a essere un valore aggiunto per la retroguardia difensiva Milan quindi che farà affidamento a due portieri di assoluta esperienza Da un lato Tatarusano, dall'altro il neo arrivato Antonio Mirante Ci vuole fiducia, lo so c'è tanto sconforto a parte di tifosi rossoneri perché Mike Magnan rappresentava una certezza nella retroguardia difensiva Ci vuole fiducia, fiducia nei nostri giocatori, nella nostra rosa che nei momenti difficili, lo sapete anche voi, nei momenti difficili negli ultimi due anni ha saputo cimentarsi, in qualche modo ha saputo unirsi, ha saputo aggregarsi ha saputo in qualche modo stringersi e farsi forza Una squadra che, diciamo, in cui prevale il collettivo rispetto alle individuali in cui il collettivo riesce ed è riuscito negli scorsi anni, negli scorsi mesi a sopperire alle qualità individuali importanti anche di altre compagini sia in Italia che all'estero e quindi partiamo da questo collettivo, partiamo da questa voglia in qualche modo di sacrificio che ogni giocatore ha la voglia di sacrificarsi per il compagno, la voglia di sacrificarsi per la squadra Questa è una grande dote, una grande caratteristica che il Milan di Pioli ha l'umiltà e il sacrificio, la determinazione, in qualche modo di portare risultati positivi senza andare a cercare alibi, senza andare in qualche modo a cercare quelle che possono essere eventuali, sia appunto alibi quelli che possono essere in qualche modo delle cause che portano alla sconfitta non c'è la sconfitta nel cuore di chi lotta, non c'è sconfitta in questa squadra con questo atteggiamento, è una squadra molto agguerrita, una squadra molto determinata una squadra che sa dove e come vuole arrivare in alto quindi fiducia massima da parte di Rubrica Rossonera in Antonio Miranti, in Tatarusano vedremo, le prime partite sicuramente le farà Tatarusano perché seppur Antonio Miranti sia sempre allenato perché è stato molto vicino ad andare alla Napoli per voi non è chiudersi la trattativa, è un portiere che ha bisogno in qualche modo anche di ritrovare fiducia, ritrovare il minutaggio e gli allenamenti a Milanello saranno sicuramente un elemento importante per tutto ciò però fiducia massima nella nostra rosa, fiducia massima nella nostra dirigenza che si è prontamente mossa per cercare in qualche modo di arrivare ad ingaggiare Miranti per essere coperta con due profili di assoluta esperienza tra l'altro chiudiamo questo video, Miranti che potrà giocare anche nelle competizioni europee potrà giocare anche in Champions League, c'è una normativa che in qualche modo prevede che se il portiere subisce un infortunio maggiore di 30 mesi può essere inserito un altro calciatore rosa e quindi in Milan in questo caso con l'infortunio di Mike Magnani inserisce anche Antonio Miranti e come sempre se vi è piaciuta questa breaking news vi chiedete di mettere un mi piace di condividerla, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!